il timer ci siamo mancati 11 giorni 7 ore 8 minuti e 50 secondi ma guardiamo l'immagine che finale del capitolo 3 quindi un'altra conferma ovviamente sul fatto che sia la fine ma questa foto qui veramente da apocalissi assurda perché questa cosa qua ragazzi succederà nell'evento noi qua io vedo con i miei occhi il benzinaio che c'è che è neocondominiale se non sbaglio vedo anche l'orso di zana strana vedo il santuario e c'è un buco nella mappa con questi tornadi che stanno portando via tutto e abbiamo un sacco di skin tra l'altro anche la gente del caos c'è anche un reboot lì mamma mia frattura la realtà dell'isola si sta disgregando state a ricostruirla gettati nella misca il 3 dicembre alle 22 ore italiana per l'irri... l'irripeti... avete capito cioè non si può ripetere questo evento finale del capitolo 3 mamma mia signori mamma mia io sono troppo in hype io ragazzi sono troppo 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 in hype questa immagine è veramente da apocalissi mamma mia che poi è strano che stanno tenendo byte per mano quindi byte in realtà non fa parte del cromo ma è semplicemente in trappola dal cromo magari non lo so però è la fine ragazzi la fine è vicina in lobby c'è l'evento cioè c'è l'evento c'è il timer in partita a me non sembra di vederlo dovrebbe essere qua sotto ma perchè non c'è? ma vuoi dire che l'hanno messo da un'altra parte perchè dicevano che poteva essere dietro alla nave ma non lo vedo cioè di solito il timer dell'evento è grande eh guarda che stanno venendo tutti qua comunque no non c'è no è vero il timer in gioco non c'è ma non so dov'è non so dove possa essere non saprei perchè qua non c'è vediamo se hanno cambiato il sotto vediamo apriamo qua no tutto uguale non è cambiato nulla ma non so dov'è il timer eh non saprei dirvi adesso dov'è il timer non so perchè non c'è ricapitoliamo il timer è arrivato nella lobby qui lo possiamo vedere tutti ma dentro la mappa dovrebbe arrivare tra due ore quindi non c'è adesso dovrebbe arrivare per le diciassette quindi adesso non c'è quindi entro stasera arriva nel blog ufficiale di epic games di fortnite hanno detto hanno scritto che ehm aspettate che ve lo leggo bene frattura è un evento di gioco irripetibile che avrà inizio sabato 3 dicembre 2022 alle ore 22 ore italiana ok la modalità frattura potremmo già giocare a 30 minuti prima quindi 30 minuti prima dell'inizio dell'evento quindi alle 21 e 30 potremmo già entrare nella modalità e quindi potrai entrare prima dell'inizio dell'evento potrai anche entrare a evento iniziato fino alle 22 e 40 ore italiana questo cosa vuol dire che l'evento dura 40 minuti o 30 minuti cioè 40 minuti di evento ci sarebbe ovviamente il più lungo di tutti perchè non è mai successo una roba del genere però mamma mia tanta roba poi regà ma la foto ma vogliamo parlarne no non la posso più vedere no perchè no dov'è sono le notizie perchè non posso aprirle dai ma che aspetta eh non mi fa aprire le notizie lì in alto perchè no volevo farvela vedere di nuovo vabbè la foto della presentazione dell'evento è una delle foto più belle che abbia mai fatto fornit per un evento è molto più bella di quella che avevano fatto per il capitolo 2 molto più bella molto ma molto ma molto ma molto più bella molto la metterò anche come copertina sia del video che esce sia dalla live mamma mia mamma mia regà mancano solamente 11 giorni e 6 ore tra alle 17 di oggi che è il 22 martedì dovrebbe arrivare il il timer dentro la partita ok quindi lo potremo vedere ho un hype assurdo non vedo l'ora regà una cosa però dovete iscrivervi tutti iscrivetevi al canale tutti e lasciate il like a tutti i video tutte le live e tutto mamma mia io sono troppo in hype non vedo l'ora il timer tra po' è già arrivato quindi sappiamo già quando inizia l'evento vabbè lo sappiamo già sappiamo quanto probabilmente durerà l'evento e abbiamo anche la conferma che tra due ore dovrebbe arrivare Ipex ha detto che tra due ore arriva il timer in gioco quindi poi lo vedremo anche in gioco e in gioco lo vedremo proprio qua sopra sopra questa casetta ok iscrivetevi al canale e ci becchiamo bella tutta